Buona serata a tutti gli amici di Rossini TV e chiaramente in queste serate che si sta spesso a casa, in questa sera abbiamo voluto dedicare uno spazio proprio alla Confcommercio di Pesaro Urbino, invitando qui nei nostri studi il direttore Amerigo Varotti, benvenuto. Grazie dell'invito. Allora, uno spazio perché vogliamo essere un po' più positivi, vogliamo cercare di guardare già al prossimo anno e soprattutto di pensare a un possibile rilancio del nostro territorio, della nostra bellezza, del nostro turismo. Confcommercio da sempre mette in campo delle importanti strategie per promuovere le nostre bellezze con gli itinerari, itinerari appunto che si chiamano della bellezza ma che poi si sono sviluppati in tanti altri settori. Sì, noi riteniamo da sempre che il turismo e la valorizzazione dei beni culturali, la tutela ambientale possano essere un motore di sviluppo per l'economia regionale, più di molti altri settori che hanno visto negli anni anche chiusure di tante attività artigianali, la delocalizzazione produttiva all'estero, mentre il turismo è una leva su cui noi dovremmo puntare, noi, le istituzioni, la politica dovrebbe puntare per avere una maggiore occupazione, maggiori opportunità di sviluppo per il nostro territorio e nello stesso tempo tutelando il territorio perché uno dei problemi su cui dovremo aprire un confronto a 360 gradi è proprio il futuro del nostro territorio in relazione agli interventi imprenditoriali che si svolgono sul territorio. Voglio dire che non tutte le attività produttive sono compatibili con uno sviluppo sostenibile dell'economia, mentre il turismo è un'attività assolutamente sostenibile. Però bisogna valorizzare e promuovere adeguatamente quello che abbiamo ed è quello che noi stiamo cercando di fare con l'itinerario della bellezza, ma con tante altre iniziative che portiamo avanti da decenni. In fondo ricordo che è dal 1994 che noi abbiamo creato un nostro tour operator che si chiama Riviera Incoming con il quale promuoviamo le bellezze del nostro territorio nel mondo. A proposito di tour operator, ne è nato uno che si chiama Assomito per promuovere anche in questo caso le bellezze. In cosa consiste esattamente? Assomito è un'associazione marchigiana Incoming Tour Operator, quindi è l'associazione di operatori marchigiani, quindi non solamente della provincia di Pesaro e Urbino, anche se la maggior parte dei nostri associati sono di questa provincia, che sono i professionisti della promozione turistica, coloro che vanno in giro per l'Italia e per il mondo per promuovere il nostro territorio. Ci siamo costituiti in associazione e hanno voluto, forse perché sono i più vecchio, che io facessi il presidente di questa associazione, perché il momento è particolarmente difficile per questa categoria. Certo. In fondo quest'anno nessuno ha lavorato perché il mercato del turismo era completamente fermo, è completamente fermo, ma la cosa grave per quanto riguarda i tour operator è che hanno perduto tutti gli investimenti fatti nel 2019, quando hanno girato il mondo, quando hanno fatto fiere, educational, quando hanno fatto pacchetti turistici, quando hanno fatto pubblicità. Che dovevano avere riscontri nel 2020. Purtroppo nel 2020 abbiamo avuto solamente cancellazioni di gruppi, cancellazioni di voli aerei e quindi abbiamo perduto il lavoro fatto nel 2019, abbiamo prodotto nulla nel 2020, salvo tanti webinar, tanti incontri, tanta attività di formazione, tanta predisposizione per l'anno 2021, ma con i costi delle aziende che correvano, che andavano avanti. Quindi è la categoria sicuramente la più colpita da questa pandemia e quella che riuscirà con maggiore difficoltà. Perché noi possiamo pensare, volendo essere ottimisti, che con l'arrivo dei vaccini a gennaio, con una maggiore attenzione da parte dei cittadini, che peraltro non vedo ad essere onesti, che magari la situazione rientri in una certa normalità. Ma questa è una normalità per la quotidianità, ma non per il turismo. Per arrivare ad una normalità nel turismo bisogna che c'è la riapertura delle frontiere e quindi che la gente possa muoversi tranquillamente da un paese all'altro. Bisogna ripristinare la serenità, la tranquillità, la fiducia da parte dei turisti. Molti, ovviamente, prima di ripartire per le vacanze, vogliono avere la certezza, ma credo che sia anche una cosa normale, la certezza che la situazione è ritornata di tranquillità. Quindi è il settore che partirà con più difficoltà. Ecco, ma quindi questa associazione come aiuterà i turoperator? Intanto con un'attività di informazione e di formazione. Informazione sulle normative. Ad esempio, quest'anno sono uscite due o tre misure a favore della categoria, con dei ristori, dei contributi a fondo perduto. E poi con un dialogo con le istituzioni, abbiamo iniziato con l'ENIT, con il direttore esecutivo Bastianelli, con la Regione Marche. Vogliamo che i nostri professionisti della promozione turistica vengano ascoltati e possano contribuire alla redazione dei piani di promozione turistica della Regione Marche. troppo spesso le istituzioni e anche la Regione, quindi parlo delle vecchie esperienze, la nuova ancora non sappiamo, facevano progettazione e programmazione turistica senza il coinvolgimento di chi poi le cose le fa per professione e le fa realmente. Quindi cerchiamo di aiutare il nostro sistema dei turoperator con un dialogo proficuo con le istituzioni. Altra categoria che ha subito dei grossi danni, tra virgolette ma neanche tanto, è quella dello spettacolo, degli operatori dello spettacolo e dell'arte. E quindi c'è appunto un'associazione che si chiama Confarti e Cultura, nata proprio da Confcommercio, per essere di supporto a queste categorie. Sì, Confarti e Cultura è nata quest'anno come associazione nazionale ma con sede a Pesaro, quindi è un'iniziativa nostra che ha avuto il riconoscimento anche da Confcommercio nazionale che notoriamente ha una propria struttura nazionale che si chiama Impresa Cultura Italia, che peraltro è presieduta dal Presidente dell'Agis. Confarti e Cultura ha l'obiettivo di associare gli operatori dello spettacolo, delle arti e della cultura, quindi dagli editori ai musicisti, dagli attori ai registi, insomma tutti coloro che si muovono nel settore delle arti e della cultura. E questo è stato un anno veramente difficile anche per questo mondo, perché pensiamo ai tanti eventi musicali che non si sono potuti fare, agli spettacoli. e quindi noi cerchiamo di aiutare anche qui, dando informazioni sulle opportunità, sui bandi, sulle opportunità che ci sono anche con i finanziamenti regionali per il settore della cultura, ma anche mettendo in campo una rete, cioè quello che vogliamo fare con Confarti e Cultura è creare una rete di professionisti delle arti e della cultura che possano interagire tra di loro e con la Confcommercio per organizzare iniziative, eventi, che possono essere presentazione di libri, spettacoli musicali, realizzazione di film, ma che tutti possano interagire tra di loro e che quindi Confcommercio, per intenderci, lavorerà con i musicisti quando organizziamo le nostre serate. Abbiamo un programma per il prossimo anno abbastanza interessante, lavoreremo con i nostri musicisti, noi realizziamo anche delle pubblicazioni, lavoreremo con gli editori che sono iscritti a questa associazione, associazione che peraltro sta avendo dei riscontri importanti a livello nazionale, c'è un'iniziativa che adesso stiamo e formalizzeremo, penso prima di Natale, e parte da Milano con Confarti e Cultura, noi abbiamo un nostro referente nella città di Milano e partirà un bellissimo progetto legato alla cultura sportiva, con anche personaggi di chiara fama, come si dice, nel mondo dello sport. Abbiamo un'altra iniziativa a Venezia, con l'Accademia delle Arti, degli artisti, che faremo una convenzione, si iscriveranno tutti a Confarti e Cultura. Insomma, abbiamo diversi progetti che poi molti di questi realizzeremo sul territorio nel 2021. In chiusura di questo spazio vogliamo avere qualche anticipazione per il prossimo anno. Il prossimo anno ci sarà davvero tanta voglia di ritornare nelle nostre sagre, di tornare a vedere gli spettacoli teatrali, di ascoltare un bel concerto in piazza, quindi ci sarà veramente una grandissima voglia e se tutto va bene ritorneremo a farlo, e a vederlo, questo spettacolo dal vivo. Quindi la Concommercio si sta già organizzando per fare delle iniziative? Sì, intanto cerchiamo di utilizzare questo tempo per programmare, quindi guardarci attorno anche per avere delle novità. Quindi in questi giorni sto facendo un po' di ricerca, i contatti, sicuramente comunque rifaremo, come dicevi tu, se le condizioni lo consentiranno, permettendo, rifaremo turismo in festa a Gabice Mare, quindi una settimana di spettacoli musicali che qui stiamo cercando di portare delle novità. Abbiamo contattato già degli artisti, quindi vediamo. Poi faremo una doppia iniziativa a Urbino, si chiama Urbino Città Aperta, con il coinvolgimento di artigiani, di artisti, faremo degli spettacoli anche per i bambini, miglioreremo l'accoglienza per la città di Urbino, anche qui con spettacoli musicali, ma molto spazio sarà dato anche ai libri, quindi ci saranno delle serate calici sotto le stelle, è il nome che abbiamo dato, e che, pardon, calici di parole. Sì, perché mi ricorda un altro lento. Calici di stelle è già una cosa... A Sant'Arcangelo di Romagna. Esattamente, quindi calici di parole, perché metteremo insieme le aziende agricole, produttori di vino, con i libri, presentazione di libri, abbiamo anche qui contattato già diversi autori. Faremo uno spettacolo teatrale che abbiamo già visionato, stiamo in questi giorni contrattando, insomma, perché sono molte persone, e metteremo insieme la poesia con la musica e la danza e le porteremo in giro nei teatri dell'itinerario della bellezza, ovviamente, perché... Una sorta di musical. Esatto, ma con anche un rating di poesia, insomma, no? Siamo già in contatto con l'autore. e quindi queste cose sicuramente andranno avanti. Poi, ovviamente, dedicheremo molta attività alla promozione turistica. Noi speriamo veramente che si possa ripartire con le attività di promozione, con le fiere. Abbiamo già previsto per l'11 aprile la presentazione di una nuova edizione dell'itinerario archeologico che questa settimana abbiamo presentato a Saltara, ma soprattutto per promuovere il nuovo MOS, cioè i mosaici di Saltara, questo piccolo museo che è stato realizzato nell'ex chiesa del Gonfalone. Presenteremo una nuova edizione a Pestum, alla fiera del turismo archeologico, che ci sarà a aprile, mentre a maggio, perché a maggio è stata spostata la data, presenteremo a BIT di Milano il nuovo itinerario della bellezza, con alcune novità. Ci saranno dei comuni nuovi, un comune dei 12 attuali non ci sarà più, per una scelta che non capisco, ma che accetto. Non ci sarà più Sant'Angelo in Vardo. Ah, Sant'Angelo in Vardo. Questa cosa mi dispiace molto, perché è uno dei comuni da cui è partito tutto, ma è cambiata l'amministrazione, e l'amministrazione non ha capito bene, insomma, quali sono le ragioni, ma pensa di fare altro, cioè pensa di non fare niente, per la verità, per quello che ho capito. Bisogna invece sempre fare rete, è importante fare rete. Però è una scelta legittima, cioè, d'altra parte entrano altri comuni, tra cui Sasso Corvaro, che è un comune che prima non c'era, e ci sono altri comuni che sono alla finestra, con cui stiamo discutendo, e faremo tante iniziative. Già questa settimana abbiamo fatto molte cose. Allora, siamo in chiusura, un augurio a tutti coloro che stanno guardando Rossini TV, a tutti anche gli associati di Confcommercio, a tutte le aziende, i negozianti che ci stanno guardando, i titolari, da parte del direttore. Beh sì, io rivolgo un tanto un augurio a tutti gli ascoltatori di Rossini TV, un augurio particolare ai nostri associati, alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, che hanno vissuto un anno difficilissimo e stanno ancora affrontando settimane di grande preoccupazione. So che c'è incertezza, c'è confusione, bisogna avere però fiducia. Noi l'associazione abbiamo dimostrato anche in questi mesi difficilissimi di essere a fianco dell'impresa e continueremo a farlo. Anzi, l'invito è a tutti gli imprenditori di essere loro stessi vicini all'associazione per essere informati, per avere tutte le informazioni, ma anche la formazione necessaria per affrontare questo momento. E magari con una maggiore partecipazione potremo mettere in campo tante iniziative per valorizzare le attività economiche del nostro territorio. E comunque auguri di buone feste. Grazie Amerigo, auguri anche a te e grazie anche a voi che ci avete seguito questa sera.